Allora, Lucia Borgonzoni, sottosegretario del Ministero della Cultura. Qui da Sorrento è un punto di vista privilegiato per capire come sarà il cinema. Come si fa ad essere ottimisti oggi? Beh, bisogna essere ottimisti perché è un sistema, quello legato all'audiovisivo, che funziona. Ha sicuramente una parte del suo ingranaggio che ha più difficoltà, che è quello legato alla sala, però è un tema che già avevamo affrontato prima della pandemia. Ovviamente la pandemia ha rallentato e in qualche modo ha buttato via anche il grande lavoro che avevamo fatto nel 2019, che si vedeva anche all'inizio del 2020. Poi la pandemia, questo come ho detto anche prima, ha influito tanto perché la gente che non è andata in sala si è divisa fra quelli non andiamo in sala perché non vogliamo la mascherina, non andiamo in sala perché anche con la mascherina abbiamo paura di andare in sala. C'è stata una comunicazione sbagliatissima perché sembrava che comunque le sale cinematografiche e teatri fossero dei luoghi dove appena uno entrava prendeva il covid, quando in realtà era tutt'altro perché erano posti sicurissimi. Per cui bisogna essere positivi, bisogna lavorare assieme. Ma è un settore che insieme ha dimostrato di saper lavorare, a differenza di altri settori che hanno molte più difficoltà a trovare sinergie e intenti tutti assieme per poter fare, io dico sempre, quel famoso piccolo passo indietro per farne uno grande tutti assieme avanti. Per cui io penso veramente che ci sarà una grande stagione, una grande stagione che deve vedere delle modifiche, deve vedere le modifiche al tax credit, dei regolamenti o delle regole che ci siamo date, magari funzionavano quando sono nate, in un mondo che è un mondo ovviamente oltre che emozionale, di imprenditoria, cambiano anche molto velocemente. Per questo dico sempre bisogna darsi delle regole che siano snelle e che siano però al contempo anche sicure, perché io penso l'investitore che arriva non può pensare che oggi ha una regola e magari pensa a cosa investire nei prossimi due anni e fra cinque mesi la regola è magari diametralmente opposta, perché questo altrimenti crea, come poi è ovvio, dei grandi problemi. Assolutamente. Senta, per chiudere brevemente, lei che spettatrice è? Cosa guarda? Io guardo di tutto. Sono veramente un amante del cinema tutto, ma anche della serialità, per cui mi piace andare tanto in sala quanto mi piace vedere i film anche sulle piattaforme, perché alla fine io credo che le due cose, cioè una non tolga l'altra, perché sono due esperienze completamente diverse. Sarebbe bello poter andare al cinema tutte le sere, però come ovvio è, non è possibile. La cosa che ha fatto di positivo per me è la questione di rimanere più in casa, per cui avvicinare un po' tutte le generazioni e le piattaforme è stato avvicinare tutte le generazioni anche a tipi di generi diversi. I documentari che ora funzionano tantissimo prima della pandemia e della scoperta da parte di tutti delle piattaforme, onestamente non funzionavano così tanto. Ora quello che dobbiamo fare è portare la gente che si è abituata magari alla comodità, fare zapping in casa, riportarli anche in sala. Però come ho detto questa voglia c'è, la gente ha voglia di andare a emozionarsi in una sala. Dobbiamo essere brave a raccontarci, smettere magari di raccontare solo le cose negative, come ogni tanto facciamo, ma anche le tante cose positive, i bellissimi film che ci sono da vedere in sala e quanto è bella l'esperienza di uscire con gli amici, passare una serata al cinema e magari emozionarsi, come dico sempre, piangere e ridere con uno sconosciuto seduto accanto. Grazie mille. Grazie.